E' il momento dei gollonzi perché adesso c'è stato un'autorete incredibile da parte della Juventus che riapre il match anche se mancano soltanto due minuti già considerando il recupero. Siamo infatti al 46esimo ma è accaduto di tutto con il pasticcio difensivo. Buffon non è riuscito a recuperare un pallone forse proprio tradito dal terreno. Si inserisce Makiwa, tocca Turano, il pallone sembra facile per Buffon che viceversa lo sbaglia completamente e la palla termina in rete forse tradito dal terreno o da un eccesso di confidenza.